Oggi parleremo di un argomento molto importante, gli sprechi di denaro. Spesso ci troviamo a spendere soldi in cose che non ci servono davvero, e questo può impedirci di risparmiare e avere un fondo di emergenza che ci faccia stare sereni. Per questo motivo, voglio condividere con te 15 errori da evitare che ti fanno perdere denaro, e abitudini che dovremmo assolutamente eliminare per risparmiare e creare un fondo di emergenza. Non credo che dobbiamo controllare ogni centesimo, ma ci sono momenti della vita in cui prestare attenzione alle spese può risultare importante. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo subito. Sono sicura che alla fine avrai imparato qualcosa di utile per il tuo futuro finanziario. 1. Acquisti d'impulso Durante i periodi di sconti, come i saldi stagionali o il Black Friday, siamo spesso tentati di fare acquisti anche se non ne abbiamo realmente bisogno. Ci sentiamo quasi obbligati ad approfittare delle offerte. Altrimenti sembreremmo sciocchi a non farlo. Questo comportamento può portarci ad acquistare oggetti che non ci servono e a spendere più soldi di quanto avevamo previsto. Personalmente, ho deciso da tempo di acquistare solo ciò di cui ho bisogno, quando effettivamente mi serve, indipendentemente dal fatto che ci siano o meno sconti disponibili. In questo modo evito di essere influenzata dalla frenesia degli acquisti e di spendere soldi per oggetti che poi non utilizzerò mai. È importante imparare a distinguere tra ciò di cui abbiamo realmente bisogno e ciò che acquistiamo impulsivamente. Ma che non solo non ci serve, ma che finiremo per non utilizzare affatto. Il denaro speso ogni anno dal cittadino medio per acquisti impulsivi è incredibilmente elevato, per cui è fondamentale pianificare con cura i propri acquisti, al fine di evitare sprechi. Per farlo, è possibile stabilire un budget mensile e una lista precisa di ciò che effettivamente ci serve, evitando di lasciarci tentare dalle offerte e dalle promozioni. 2. Abbonamenti TV e simili Spesso ci troviamo ad avere un abbonamento TV costoso che ci sembra inevitabile, ma in realtà potremmo risparmiare molti soldi facendo la disdetta del nostro abbonamento e optare per servizi più economici ma ugualmente validi. Infatti, i costi di un abbonamento TV possono essere molto elevati, soprattutto se si sceglie una formula completa che include anche i canali premium. In molti casi, però, ci sono alternative a prezzi più contenuti che ci consentono comunque di avere una vasta scelta di programmi e canali. Per esempio, potremmo abbonarci a servizi di streaming come Netflix o Amazon Prime, che offrono un'ampia gamma di contenuti a costi più convenienti rispetto a un abbonamento TV tradizionale. Inoltre, questi servizi permettono di guardare i programmi in qualsiasi momento e su diversi dispositivi, come computer, tablet e smartphone. Anche se dobbiamo rinunciare ad alcuni canali che magari ci piacevano, potremmo comunque risparmiare molte spese optando per servizi alternativi. Inoltre, in molti casi, questi servizi offrono anche produzioni originali di altissimo livello, quindi non dovremmo sentire così tanto la mancanza dei nostri vecchi canali. 3. Ultimi gadget tecnologici L'acquisto degli ultimi gadget tecnologici può sembrare allettante, ma è importante considerare il loro impatto sulle finanze personali. Spesso, infatti, si finisce per pagare a rate prodotti costosi come l'ultimo modello di iPhone o un televisore di 60 pollici, il che significa che probabilmente non si ha la possibilità di acquistarli veramente. Anche se si ha il denaro per acquistarli in contanti, è bene pensare al loro reale valore e all'utilità che possono portare nella vita di tutti i giorni. Spese fuori budget occasionali possono starci, ma spendere continuamente per oggetti che diventeranno presto obsoleti e inutili non porterà alcun miglioramento alla qualità della vita. Inoltre, una volta passata la novità, si rischia di essere già alla ricerca del prossimo gadget tecnologico all'avanguardia, creando così un circolo vizioso di spese inutili. 4. Carta di credito La carta di credito può essere un'ottima alleata per effettuare acquisti online o in negozi fisici, ma devi sapere che può anche diventare un vero e proprio problema se non la usi in modo corretto. Se non sei in grado di gestire le spese e le rate da pagare, le conseguenze possono essere molto negative per le tue finanze. Infatti, gli interessi applicati sulle carte di credito sono molto alti rispetto ad altri prodotti finanziari. Per evitare di finire in un circolo vizioso di debiti e spese, comincia a valutare con attenzione se hai davvero bisogno di una carta di credito. O se potrebbe essere più conveniente utilizzare una carta di debito che ti consente di rimanere all'interno di un tetto di spesa stabilito, senza rischiare di pagare interessi troppo elevati. In generale, tieni sempre sotto controllo le tue spese e cerca di non eccedere il tuo budget mensile. Così facendo, potrai evitare tutte quelle spese accessorie che possono gravare sul tuo bilancio finanziario. 5. La salute Mantenere la salute in forma ottimale è un obiettivo importante per tutti noi. Una delle cose più importanti da fare per raggiungere questo obiettivo è sottoporsi a controlli di routine regolari. Anche se può sembrare costoso e fastidioso, è molto meglio prevenire piuttosto che curare. Ad esempio, programmare una visita dal dentista ogni anno per una pulizia e un controllo. Può sembrare una spesa superflua, ma in realtà è un investimento a lungo termine. In questo modo, si possono evitare problemi dentali costosi e dolorosi in futuro, come l'applicazione di un apparecchio ortodontico o la necessità di sottoporsi a interventi chirurgici. Ciò vale anche per altre visite mediche di controllo, come ad esempio quelle ginecologiche per le donne. Investire nella propria salute può aiutare a risparmiare soldi e preoccupazioni a lungo termine. Se stai trovando il video interessante, ti invito a mettere un mi piace e a seguire il nostro canale YouTube per non perdere i prossimi contenuti. Ma adesso continuiamo con gli altri 10 errori da evitare per risparmiare denaro. 6. Provare a sembrare ricco Molte persone cadono nella trappola di voler sembrare ricche e di impressionare gli altri con oggetti costosi o stili di vita che non possono permettersi. Questo può portare a gravi problemi finanziari, perché invece di risparmiare e investire in modo intelligente, si spendono soldi per apparenze. Il desiderio di sembrare ricchi può essere alimentato da molte fonti, come la pressione sociale, i media e la cultura del consumismo. Tuttavia, è importante ricordare che l'apparenza non equivale alla realtà e che ciò che gli altri pensano di noi non dovrebbe influire sulle nostre decisioni finanziarie. Invece di cercare di apparire come qualcun altro, dovremmo concentrarci sulla costruzione di una base finanziaria solida. Ciò significa risparmiare denaro ed evitare debiti inutili. 7. Abbonamento in palestra Ecco un errore che si commette spesso. Dopo le prime settimane di acquisto dell'abbonamento annuale in palestra, viene utilizzato sempre meno fino a utilizzarlo una volta a settimana o anche meno. Questo comporta uno spreco di denaro, perché si paga un abbonamento per un servizio che non viene utilizzato. In questi casi, non conviene fare un abbonamento annuale se non si sfrutta appieno. È meglio valutare se effettivamente si utilizzerà l'abbonamento in palestra o considerare alternative come andare a correre all'aperto, fare esercizi a casa o scegliere un'altra attività che richieda meno spese. Le palestre fanno affidamento sull'acquisto di abbonamenti annuali, ma statisticamente la maggior parte delle persone vanno tanto all'inizio e poi smettono di frequentarle. Prima di fare un abbonamento annuale, è importante valutare se si ha il tempo e la motivazione per sfruttarlo al meglio. 8. Fumare Il fumo è un'abitudine estremamente dannosa per la salute e costa anche molto in termini di denaro. Un fumatore che fuma un pacchetto al giorno può spendere fino a 2.000 euro l'anno solo per le sigarette, senza contare le spese mediche che potrebbero derivare dai danni causati dal fumo. Smettere di fumare può essere difficile, ma è un passo importante per migliorare la propria salute e risparmiare denaro nel lungo termine. Molte persone che hanno smesso di fumare hanno riferito di miglioramenti significativi nella loro salute e nel loro benessere generale. Se sei un fumatore immagino che tu sappia molto bene queste cose, per questo motivo non penso ci sia bisogno di dilungarci su questo argomento. 9. Diete miracolose e integratori Le diete miracolose e gli integratori magici non sono la soluzione a lungo termine per chi vuole rimettersi in forma. Se hai mangiato male e non hai mai fatto esercizio fisico per anni, non puoi aspettarti di avere un corpo perfetto in poche settimane con l'ultima pillola magica. Queste promesse sono solo truffe che svuotano il tuo portafoglio e non ti danno i risultati desiderati. Per ottenere una vera trasformazione fisica, devi seguire una dieta equilibrata a lungo termine, fare esercizio fisico costante e dedicare il giusto tempo al riposo. Questi cambiamenti richiedono tempo e dedizione, ma sono l'unico modo per avere una salute e un aspetto migliore nel lungo periodo. Non cercare scorciatoie facili, investi invece in te stesso e nel tuo benessere a lungo termine. Le tue finanze e la tua salute ringrazieranno. 10. Scegli un mezzo alternativo alla macchina Optare per un mezzo di trasporto alternativo alla macchina per andare al lavoro può fare la differenza in termini di risparmio e impatto ambientale. Prendere il bus, la bicicletta o camminare sono ottime opzioni per ridurre i costi di trasporto e l'inquinamento atmosferico. Se sei fortunato, puoi anche provare a spostarti con un monopattino elettrico, che oltre a essere economico e veloce, è anche ecologico. La scelta di un mezzo di trasporto alternativo non solo migliorerà la tua situazione finanziaria, ma contribuirà anche alla riduzione dell'impatto ambientale. 11. Finanziamento Sul tema dei finanziamenti, vale la pena considerare che, tranne per il mutuo, che ha un tasso di interesse generalmente contenuto ed è spesso necessario per l'acquisto di una casa a causa dei prezzi elevati, non è consigliabile fare prestiti per acquistare altre cose. Se si ha bisogno di un finanziamento per qualcosa, probabilmente non ci si può permettere di acquistarlo e si dovrebbe aspettare di risparmiare abbastanza denaro. I finanziamenti, come quello per l'acquisto dell'auto, sono una spesa che potresti evitare se riuscissi a risparmiare per comprare l'auto senza dover pagare interessi. Su un'auto da 20.000 euro, almeno 3.000 euro sono solo di interessi extra. Spesso, però, il venditore dell'auto non fa notare questa spesa. 12. Gratta e vinci e simili Il gioco d'azzardo è una trappola per perdere soldi. Anche se può essere divertente, investire denaro in lotterie o slot machine, non è un modo saggio per fare soldi. Questi giochi sono solo una tassa per chi non è bravo in matematica e spesso attraggono persone che hanno pochi soldi e sperano in una fortunata svolta. Per migliorare la loro vita. Ma questa svolta, purtroppo, non arriverà mai. Il gioco del gratta e vinci è una trappola nella quale molti cadono. Le possibilità di vincere sono così basse che è più probabile che tu diventi un astronauta. Eppure molte persone spendono quei 5 euro pensando che non sia una grande spesa, ma se lo fanno ogni settimana o ogni mese, alla fine della vita avranno speso una fortuna. È meglio investire quei soldi in formazione o in un'attività che dia valore reale, piuttosto che cadere in questo sistema creato solo per farti spendere soldi e far guadagnare lo Stato. 13. Sprechi alimentari Ogni volta che buttiamo via del cibo, stiamo letteralmente buttando via i nostri soldi. Per evitare questo spreco, è possibile adottare alcune semplici strategie che ci permetteranno di risparmiare denaro e ridurre gli sprechi. La prima cosa da fare è fare una lista della spesa accurata e attenersi ad essa quando si fa la spesa. Evitare gli acquisti impulsivi e acquistare solo ciò che serve realmente. Inoltre, è importante prestare attenzione alle offerte e alle promozioni, ma solo se si tratta di prodotti che si utilizzeranno effettivamente. Un'altra strategia utile per evitare gli sprechi alimentari è quella di pianificare i pasti in anticipo. Ciò significa creare un menù settimanale in cui si prevede cosa mangiare ogni giorno e acquistare solo gli ingredienti necessari. In questo modo, si eviterà di acquistare cibo che poi finirà per andare a male. 14. Spendere esageratamente nei locali Spendere troppo nei locali notturni può essere una vera e propria trappola finanziaria, soprattutto se lo si fa regolarmente. Acquistare champagne costoso o riservare tavoli privati in locali esclusivi può sembrare un'esperienza esaltante, ma questi costi superflui possono accumularsi rapidamente. Ci sono persone che hanno i mezzi per permettersi questi sfizi, ma per la maggior parte di noi, questi sono solo esempi di spese inutili che potrebbero farci finire in rosso. Quindi, se non siete tra quelle persone che possono permettersi di spendere cifre elevate in questo tipo di divertimento, è meglio evitare e cercare attività alternative che vi permettano di farvi godere la vita senza dovervi preoccupare troppo delle spese. 15. Colazioni al bar Se vuoi risparmiare, cerca di non fare la colazione al bar. E magari puoi organizzarti a casa, potresti investire in una macchina del caffè che ti permetta di preparare un buon cappuccino direttamente da casa. In alternativa, la moca è sempre una scelta economica. Secondo un'indagine di Nomisma, gli italiani spendono in media 260 euro all'anno per il caffè e il 72% di loro lo prende al bar. Modificare questa abitudine può portare ad un notevole risparmio. Se hai apprezzato i miei consigli, ti sarei grato se potessi mettere un mi piace e condividerlo con i tuoi amici se pensi che possano trarne beneficio. Inoltre, se vuoi condividere la tua esperienza con la nostra community, lascia un commento. Se vuoi vedere altri video come questo in futuro e non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale cliccando sul pulsante rosso in basso a destra e attiva la campanella delle notifiche, così verrai informato ogni volta che un nuovo video verrà pubblicato sul canale. Ciao e alla prossima!